Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Hyrule Warrior Definitive Edition. Vi manda un saluto Paltinox e nella puntata di oggi farà l'entrata di un nuovo personaggio. Quindi se il video vi piace ed anche la serie ragazzi sopportatela con un bel like, un commento per qualsiasi vostro dubbio ed incertezza e se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi. Tra l'altro in descrizione troverete i link per andare a visitare i canali di Zip65 e Slide86 con i quali sto collaborando e troverete anche i link che vi porteranno ai miei social dove potete parlare direttamente con me e con tutti i ragazzi della community. Quindi andiamo! Oh! 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 Ah... Ah oi oi Néé! Un! Y-y-y-y! O-oi! Haa... Un! I-y-y! There once was a girl who lived in a small village. She led a simple life, tending to her flock of cuckoos. Her name was Linkle. For as long as she could remember, Linkle had believed in her heart that she was the hero reborn. One day, terrible news arrived at her village. Monsters had laid siege to Hyrule Castle. Linkle caught word of the monster's attack and immediately began preparations. She dressed the part in her green tunic. Equipped with her trusty crossbows and the ancient compass her grandmother had bestowed on her, Linkle set out from the village. This treasured compass and a crude map were all she had to guide her way to Hyrule Castle. In no time at all, she found herself lost in a malevolent forest. An imp in a curious mask appeared out of nowhere and stole Linkle's precious compass. That compass, she knew, was proof of her destiny. She had to get it back. And thus began Linkle's first true trial. And as for now, her apparso Skull Kid di Majora adesso vedremo cosa dovremmo fare cosa è successo da quanto capito gli ha rubato la bussola a Lincoln Skull Kid raggiungi Skull Kid che è da quella parte quindi andiamo di qua andiamo dai muoviti Lincoln da qua ce l'antiamo di qua livriamo quella va a posto via che ci siamo dai oh è troppo più Lincoln guardate qua sembra che spari ma ovviamente c'ha delle palestre eccolo la Skull Kid vieni qua no se ne andrà Skull Kid si entra trasportato all'area albero est ok da quella parte si che andiamo andiamo di qua passiamo di qua torniamo indietro però da dove ci vado perché se lì non ci posso entrare dove si apre l'armato di Skull Kid ah ecco aperto la porta perfetto andiamo venite qua venite qua no prendi muori perfetto dai bellissimo ecco il capo del presidio no prendete è davvero OP ragazzi la ragazza dal nord è chiusa dove ah ho capito di là non ci posso andare questa voglio aver conquistato dovrei andare là guarda allora devo andare sì perché ci sarà guarda porta che lo dobbiamo no dove vai Lincoln non sconfiggiamo ovviamente la guardia porta per poter entrare quindi passiamo di qua andiamo di qua vieni qua che potete fare voi morire il piccolo di cocco è alla ricerca di cibi ok però adesso non la posso fare apro guardia porta vieni qua anche tu la guardia porta vieni qua vieni qua no vieni qua vieni vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni via no no prendi mamma mia la mossa che c'ha Lincoln perfetto accogli volta che la sto facendo a livello difficile ragazzi, andiamo, eccolo da Skull Kid, un'ora diremmo di apparire vicino a un piccolo del cocco, si adesso vado a salvarlo, aspettate, lo so qui, perfetto, ok il tesoro però adesso lo ignoriamo, andiamo a salvare il piccolo, andiamo, di qua, sta arrivando, resisti resisti, ti prego resisti, non morire, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, no ho sbagliato anche strada, è qua, sarò torsolo, eccolo qua, qui sono qua, sono qua, sono qua, no prendete, perfetto, dai venite qua, su, concentratemi su di me, dai su, bellissimo, dai, dai, dai che la facciamo fuori, anche questo, perfetto, bravissima, abbiamo fatto la missione, quella era, come che fuga, ma sei uccisi, ma guardate, ok devo andare di qua, chi c'è qua, eccolo qua, grande, non uccidere i polli, prendi, prendi qua, muori, perfetto, andiamo a sconfiggere quest'altro di qua, sì, vado là, vado là, tranquillo, muori, dai, eccolo, eccolo, la missione secondaria è fare un'altra, ma guarda di te, sì, sono qui, però, prendete, me la pagherete, no, come si toccarmi, come si toccarmi, perfetto, questo è il nostro, su, morite, dai, perfetto, adesso, sculchi, dovrebbe essere lassù, quindi, no, da lì non c'è cammino, devo andare di qua, andiamo, raccogli qua, raccogli qua, andiamo a dare a posto, perfetto, ok, tranquillo, che ti troverò, si prepara a evocare dei demoni, no, non li evocare adesso, non essere così infilo, dai, sì, lo so, che dovrebbe essere qua su, school kid, ma guardate, dai, invocati, venite qua, venite qua, soffrite, soffrite, questo vi passa per mentre vi incontro di me, ma dai, qua, sei morto, perfetto, allora vediamo, adesso, la porta è ancora in chiusa, quindi scendiamo, andiamo ai presidi, questi qua, forza, 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 su, morite, perfetto, bello, perfetto, vedi qua, capo del presidio, perfetto, questo è il mio, andiamo, 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 l'aggetti, perfetto, eccolo qua, non c'è il school kid, ma dov'è, vai, su, morite, perfetto, questo non è, eccolo, scudkid, vieni qua, vieni qua, vieni qua, maledetto, dove sei, dai, su, se non è andato, ma guardalo te, sto facendo, sei andato qua, di sopra, andiamo, andiamo, no, se non è andato di qua, vai di qua, dai, dai, c'è altro che lo scompico, è qua dentro, quello effettente, vieni qua, vieni qua, vieni qua, maledetto, sputti, dai, su, qui sono tutti i più potenti, scivalletti, guidao, stai attenta, vinter, dai, su, venite qua, perfetto, che appaiono, oh, quasi mi prende, no, ecco, mi ha preso, come hai usato, vieni qua, muori, maledetto mapo, ecco lo school kid, sei rimasto solo adesso, sei solo tu, dai, su, su, prendi qua, scoppi, ma ti darò pace, dai, perfetto, vieni, 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 vieni qua, dove sei, vieni qua, ecco, se n'è andato, maledetto, lo school si è trattato a trasportato all'aria piazza sud, ok, andiamo ad andare fin laggiù, dai, andiamo, 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 veloce, 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 Nick, tu, perché hai ripreso il presidio, chi ti ha dato il permesso, e gli dammi il presidio, e smettila di evocare, ma smettila, te li faccio fuori tutti, evoca, ti ti pare, te li faccio fuori tutti, visto, curati, ecco, andiamo di qua, dai, vieni qua, perfetto, è un posto nostro, dammi, vieni qua, school kit, tu, bello, hai visto, dai, tu, prendi, perfetto, ce l'abbiamo fatta, sembrerebbe di sì, sembrerebbe sì che ce l'abbiamo fatta, dai, tanta Nick, su, vieni qua, ma che vuoi fare, vieni qua, ma che vuoi fare, ma tu devi morire, ecco, lo sconfitto, perfetto, di dammi, la mia bussola, perfetto, benissimo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, grande, grande, è troppo OP, questo personaggio, mi piace un sacco, veramente, ecco che gli scucchi di ovviamente ti sta prendendo giro, sei proprio una peste, ma la prossima volta starò attenta a non farmi da rubare, infatti, ovviamente, anche tu, Link, per fortuna ho recuperato la bussola, ora devo correre al castello di Hyrule, benissimo, ecco la nostra vittoria, vi ricordo, in modalità difficile, ragazzi, ok, ecco la nostra vittoria, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, whatever the case, it had to be a sign of her status as the legendary hero, if she could harness this power, perhaps she would fully realize her destiny and save Hyrule, perfetto, ragazzi, come possiamo vedere abbiamo completato la nostra missione e a livello difficile, quindi lasciate un bel like, un commento per qualsiasi vostro dubbio ed incertezza, se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e in descrizione troverete tutti i link per andare alle mie reti sociali per poter parlare direttamente con me e con tutti gli altri ragazzi che fanno parte della community. con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere questo qua, dove saremo nella valle delle maghe, già la storia si sta facendo più intrigante, quindi ragazzi supportate, supportate, supportate la serie, ci vediamo al prossimo video, adiós ciao